L'emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova l'economia italiana. Ieri pomeriggio è stato trovato un appunto d'incontro tra il governo siciliano e le parti sociali per la Cassa Integrazione in deroga per i lavoratori colpiti dalla riduzione o dal fermo delle attività disposte per contenere l'epidemia di Covid-19. Tra i firmatari dell'accordo c'è anche la Confcommercio. A darne comunicazione è il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa Gianluca Manenti. È stato un accordo molto atteso. L'accordo permette di sbloccare le procedure che riguarderanno decine di migliaia di dipendenti in Sicilia. L'accordo prevede anche un percorso per garantire l'accelerazione dei pagamenti da parte dell'Inps. Il fondo del Cure Italia dovrà necessariamente essere implementato e anche il governo regionale dovrà fare la sua parte con l'utilizzo a questo fine dei fondi di coesioni residui. In pratica i datori di lavoro che hanno sospeso la propria attività potranno richiedere trattamenti di Cassa Integrazione Salariare in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro. I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento in deroga potranno essere anche non continuativi. A tal proposito diciamo che Confcommercio provinciale mette a disposizione dei propri associati e non la relativa assistenza per accedere agli ammortizzatori sociali, per imprese e per lavoratori dipendenti. Per l'informazione e la consulenza ci si può rivolgere al numero telefonico della Confcommercio oppure inviare un'email a cureitalia.confcommercio.rg.it Grazie a tutti!